Non lasciano spazio a dubbi le immagini filmate dalle microcamere installate dai carabinieri del Ross. Lo scafatese Ferdinando Cirillo era un pezzo da 90 nel campo del rifornimento di armi da fuoco. Pistole, ma anche kalashnikov e mitragliette, vendute per poche migliaia di euro, sia a membri della criminalità locale sia ad esponente dell'Andrangheta calabrese. Cirillo, ex carrozziere, recuperava le armi nella ex Jugoslavia, soprattutto in Croazia, e da lì le portava a scafate, dove poi venivano consegnate ai clienti che di volta in volta lo contattavano. Secondo gli investigatori, a questo particolare canale di approvvigionamento avrebbero attinto gli autori di diversi alzarti armati a furgoni portavalori. Quello del 3 dicembre 2007 a Castel San Giorgio, quello messo a segno il 23 maggio 2011 a Ponte Cagnano, il successivo del 24 maggio 2011 a Candela e quello di settembre 2011 all'altezza della Galleria del Seminario sulla Napoli-Salerno, colpo che futtò alla banda circa 700 mila euro. Bande in parte diverse e con il medesimo fornitore di armi. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, un ideale filo rosso regherebbe alle attività collegate al deposito scafanese gestito da Cirillo un lungo elenco di riscontri investigativi alle dichiarazioni rese da una cittadina straniera, in passato legata sentimentalmente ad uno degli arrestati di ieri, Vincenzo Staffetta. La donna, il cui nome in codice è Marilyn, avrebbe consentito negli anni scorsi di arrivare al sequestro a Scafati di un casolare scenario di esercitazione al piombo, di una pistola malamente conservata in un cestino nei pressi di un barattigo alla stazione a Cava dei Tirreni e del vero e proprio arsenale scoperto a Pagani in un garage in uso al pregiudicato Pasquale Sassolino, ritenuto parto integrante di una delle bande dedita agli assalti ai porti a valori, poi individuata e al momento sotto processo.